ben ritrovati amici di un nuovo appuntamento con racing time pronti a parlare di ferrari di formula 1 ma non solo di ferrari però tanto e di formula 1 tanto ma non solo perché ospite in studio il marchio hublo e quindi ci sarà modo di parlare anche dei festeggiamenti che continuano per questi 70 anni del marchio ferrari appunto ed è venuto a trovarci un'altra volta in studio grazie per essere qui emanuele citofilo marino marketing e communication manager per hublo benvenuto grazie grazie mille buongiorno a tutti e come sempre nell'altra postazione paolo artemi stai correde della sera benvenuto anche a te paolo buonasera buonasera emanuele buonasera andrea e stasera ne sentiamo delle belle e vediamo vediamo allora insomma dicevamo emanuele ferrari tanto giusto per fare un'introduzione rimane ovviamente una delle vostre grandi partnership non voglio dire quella per eccellenza perché sennò poi magari sminuiamo le altre qualcuno se la prende però sicuramente una punta di diamante delle vostre attività della vostra comunicazione e anche della vostra produzione ovviamente di orologi sì 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 assolutamente siamo appunto sponsor ferrari dal 2012 una partnership di grande successo molto forte molto solida molto concreta perché si materializza poi con tante edizioni limitate che sono partite dai primi classic fusion invece oggi abbiamo tre casse che sono l'espressione ferrari che hanno il le prestazioni blu e il dna invece ferrari e sono le famiglie dei big bang unico è una cassa in 45 mm molto bella poi abbiamo la famiglia dei la ferrari che sono i masterpiece con il record di riserva di carica di 50 giorni un orologio pazzesco e poi la novità presentata quest'anno a basilea che è il tech frame una cassa inedita disegnata da fabi manzoni per celebrare il settantesimo ferrari poi insomma arriveremo un pochino più avanti per raccontare qualcosa di più proprio di questo tech frame paolo invece mi rivolgo a te perché nel frattempo rispetto a quando ci siamo visti anche appunto come novelle l'ultima volta il campionato mondiale di formula 1 si è deciso si è concluso come sappiamo con la vittoria finale di Lewis Hamilton e in questo caso diciamo i festeggiamenti ferrari per i 70 anni e me sono hanno traballato un pochino non sono stati forse quell'apoteosi che che sperava il team ferrari beh non sono state l'apoteosi ma come ha raccontato e in qualche misura detto il team mercedes vincere quando la seconda squadra è veramente molto forte è una grande soddisfazione assolutamente cioè battene un secondo così e così va bene ma battene uno che invece è competitivo è qualcosa che ti dà ancora più orgoglio detto questo vorrei però ricordare che cosa è successo certo abbiamo avuto una ferrari estremamente competitiva un Lewis Hamilton che ha detto che la ferrari era la macchina più forte della sua non si sa quanto l'abbia detto perché voleva farsi un complimento in più o quanto l'abbia detto perché effettivamente la ferrari una macchina molto molto forte grazie mille parlo questa per questa tua disamina però noi parlavamo dei festeggiamenti in effetti ferrari che sono avvenuti come la grande tradizione il gran finale le finali mondiali teatro il bellissimo autodromo internazionale del Mugello in Toscana è stato un momento particolare direi Emanuele quest'anno perché ovviamente i 70 anni sono una ricorrenza fondamentale che è stata celebrata durante tutto questo periodo e direi che sono stato un grande momento penso anche per voi tutto sommato sì sì è stato un weekend magnifico straordinario ci sono state c'erano i campioni del ferrari challenge del trofeo europeo di asia pacific e dell'america un veramente un magnifiche gare tante diciamo categorie e poi la presenza di una mostra esposizione di un'infinità di gare con palmarès di vittorie pazzesche Paolo un grande evento si accennava prima al tech frame insomma anche perché Ferrari oramai e qui poi ci sarà un aggancio ovviamente il design se lo fa abbastanza in casa Flavio Manzoni insomma è responsabile del progetto ovviamente di conseguenza Lasciamo poi a Emanuele l'opportunità di farci vedere come nasce un tech frame in casa Ferrari però io vorrei un pochettino far notare ai nostri amici telespettatori che questa è la bella favola no il mondo ha anche questa bellezza qui non è soltanto un discorso di avere automobili Ferrari che costano un botto di indossare orologi Hublot che hanno un prezzo non accessibile a molti di noi ma è il concetto di vivere qualcosa che sia la bellezza la bellezza la capacità di avere grandissime prestazioni in una vettura e di avere un'eleganza qualcosa a cui si deve aspirare perché la vita è fatta di sogni e questi sono i sogni che anch'io alla mia età mi piacerebbe in qualche misura concretizzare detto questo vediamo come si concretizzano questi sogni perché so che questa volta Emanuele ci hai portato per raccontare meglio ovviamente e far anche vedere illustrare meglio intanto partiamo da Flavio Manzoni che è questo designer incredibile responsabile del design Ferrari esattamente un uomo che suona il pianoforte peraltro ecco per cui ha un orecchio musicale per cui ama anche il rombo dei motori è un uomo molto interessante esatto il tech frame è appunto un orologio celebrativo che abbiamo creato per il settantesimo Ferrari in movimento è un raffinatissimo tourbillon crono monopulsante di manifattura blu la cassa è completamente inedita non è un Big Bang non è un LaFerrari non è un Classic Fusion appunto è un tech frame disegnato da Flavio Manzoni ed è partito lui da un foglio bianco ha ideato quello che è la sua visione dell'orologio la sua interpretazione allora facciamolo esatto che vi faccio vedere andiamo a far vedere a questo punto quindi vedete questa cassa che è una sorta di vuoto pieno si è ispirato ai telai delle autovetture e poi sempre parlando di partnership italiane c'è quella con la Juventus di cui siamo fieri official timekeeper questa è la nostra qualifica anche con loro abbiamo una edizione limitata che è un Big Bang retrogrado fatto specificatamente per misurare i tempi della partita di calcio è una partnership anche questa molto solida, molto duratura, di lunga data che stiamo anche fra l'altro rigestendo un proseguio, una continuazione di questa partnership direi che loro aspettano di fare l'orologio della vittoria della Coppa dei Campioni, della Juventus io non ho detto niente aspettano di fare questo anche perché in effetti tifosi superstiziosi si sa un orologio molto ma molto costoso rigorosamente bianco e nero assolutamente no ok no va bene la Juventus in Europa può vincere tutto in Italia facciamo anche delle cose azzurre abbiamo qualche colore va bene d'accordo vabbè con queste considerazioni un po' filo tifoso calcistiche direi che siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Racing Time quindi vado a ringraziare ancora una volta Emanuele Cito Filomarino Marketing e Communication Manager di Hublot per l'Italia grazie mille Emanuele grazie a voi grazie mille e ovviamente un saluto e un ringraziamento anche a Paolo Artemi di Style Corriere della Sera grazie Emanuele veramente sempre un piacere chiacchierare con te e sapere che ci porti delle cose che sono qualcosa che tutti quanti vorrebbero avere ma non tutti possono grazie comunque di farci vedere queste cose meravigliose a me insomma serve anche sognare giustamente e invece per quanto ci riguarda vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti sempre con noi quindi con le puntate di Safe Drive Motorsport e di Racing Time grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti